In questa lezione mi occuperò degli avverbi di tempo, 20 avverbi di uso comune. Der erste Satz. La prima frase. Bald. Presto. Bald. Peter ist bald gekommen. Peter è presto venuto. Per dire, Peter è arrivato presto. Der zweite Satz. La seconda frase. Dann. Poi. Dopo. Dann. Permettano loro a me. Lassen Sie mich. Poi un dissenso di nominare. Einen dissenz benennen. Per dire, mi permetta di dissentire. Mi permetta di non essere d'accordo con lei. Der dritte Satz. La terza frase. Jemals. Mai. Jemals. Questa era la miglior non risposta. Io mai dalla commissione ricevereò. Per dire, questa è stata la miglior non risposta che abbia mai ricevuto dalla commissione. Das war die beste, nicht-Antwort, die ich jemals von der commissione erhalten habe. Der vierte Satz. La quarta frase. Jetzt. Ora. Jetzt. Jetzt müssen wir aber lernen. Adesso dobbiamo noi, però, studiare. Der fünfte Satz. La quinta frase. Gestern. Ieri. Gestern. Gestern war ich müde. Ieri ero io stanco. Der sechste Satz. La sesta frase. Heute, oggi, 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 sento io, heute, fühle ich, me stesso, in forma, mich, fit. Der siebte Satz. La settima frase. Immer, sempre, immer. Io sono, sempre, affamato. Ich bin, immer, hungrig. Der achte Satz. L'ottava frase. Jahre lang. Per anni. Jahre lang. Jahre, anni. Jahre lang. Per anni. I pesticidi sono stati spruzzati per anni e hanno distrutto tutto. Il per anni di Jahre lang spruzzati pesticidi, versprüten pesticide, hanno tutto distrutto. Haben alles zerstört. Der nointe Satz. La nona frase. Kurzlich. Recentemente. Kurzlich. E' stato in vacanza recentemente. Recentemente è lui. Kurzlich ist er. In vacanza stato. In urlaub gefahren. Der zehnt Satz. La decima frase. Morgen, domani, morgen. A domani, bis morgen. Der elfte Satz. L'undicesima frase. Morgens, di mattino, morgens. Alle sei del mattino, alle sei ora, um sexua, di mattino, morgens. Der zwölfte Satz. La dodicesima frase. Abends, di sera, abends. Lavoro dalla mattina alla sera. Io lavoro, ich arbeite, da mattina al di sera. Von morgens, bis abends. Der dreizehnte Satz. La tredicesima frase. Nax, di notte, nax. Di notte voglio stare in pace. Di notte voglio io, nax, will ich, mia tranquillità avere, meine Ruhe haben. Der vierzehnte Satz. La quattordicesima frase. Niemals, mai, niemals. Non viene mai da me. Lui viene mai, da me. Er kommt niemals, su mia. Der fünfzehnte Satz. La quattordicesima frase. Oft, spesso, oft. Di sera, vado io, abends, gehe ich. Spesso, in palestra. Oft ins fitness studio. Der sechzehnte Satz. La sedicesima frase. Giorno, tag. Tag siuba. Di giorno, tag siuba. Io lavoro di giorno. Io lavoro durante il giorno. Ich arbeite, tag siuba. Dasipzehnte Satz. La diciassettesima frase. Settimane, wochen. Wochenlang. Per settimane, wochenlang. Ha piovuto per settimane. Esso ha, per settimane, piovuto. Es hat, wochenlang, geregnet. Das achtzente Satz. La diciottesima frase. Tempo, Zeit. Vita, Lebens. Zeit, Lebens. Per tutta la vita. Zeit, Lebens. Loro ameranno se stessi per tutta la vita. Loro, se stessi, per tutta la vita ameranno. Sie werden sich seit Lebens lieben. Das neunzehnte Satz. La diciannovesima frase. Juba morgen. Dopodomani. Juba morgen. Dopodomani vado io a Torino. Juba morgen fare ich nach Torino. Das zwanzigste Satz. La ventesima frase. Fogestern. L'altro jeri. Fogestern. L'altro jeri. Oh io. Fogestern. Habe ich. Tua mamma incontrato. Deine mutta. Getroffen. Fogestern. Fogestern. Grazie per la visione!